Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo intrapresso il viaggio nelle beatitudini e oggi ci soffermiamo un sola seconda. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Nella lingua greca in cui è scritto il Vangelo, questa beatitudine viene espressa con un verbo che non è al passivo. Infatti, i beati non subiscono questo pianto, ma all'attivo si affliggono, piangono, ma da dentro. Si tratta di un atteggiamento che è diventato centrale nella spiritualità cristiana e che i padri del deserto, i primi monaci della storia chiamavano pentosto è un dolore interiore che apre ad una relazione con il Signore e con il prossimo, a una nuova relazione col Signore e col prossimo, a una rinnovata relazione col Signore e col prossimo. Questo pianto, nelle scritture, può avere due aspetti. Primo, è per la morte o per la sofferenza di qualcuno. Secondo, sono le lacrime per il peccato, per il proprio peccato, quando il cuore sanguina per il dolore di avere offeso Dio e il prossimo. Primo aspetto, si tratta quindi di voler bene all'altro in maniera tale da vincolarsi a lui o lei fino a condividere il suo dolore. Ci sono persone che restano distanti, un passo indietro. Invece è importante che gli altri facciano breccia nel nostro cuore. Ho parlato spesso del dono delle lacrime e di quanto sia prezioso. «Si può amare in maniera fredda? Si può amare in maniera fredda? Si può amare per funzione, per dovere?» Certamente di no. Ci sono degli afflitti da consolare, ma talvolta ci sono pure dei consolati da affliggere, da risvegliare, che hanno un cuore di pietra e hanno disimparato a piangere. Il lutto, per esempio, è una strada amara, ma può essere utile per aprire gli occhi sulla vita e sul valore sacro e insostituibile di ogni persona. E in quel momento ci si rende conto di quanto sia breve il tempo. Vi è un secondo significato di questa paradossale beatitudine. Piangere per il peccato. Qui bisogna distinguere. C'è chi si addira perché ha sbagliato. Ma questo è orgoglio. Invece c'è chi piange per il male fatto, per il bene omesso, per il tradimento del rapporto con Dio. Questo è il pianto per non aver amato, che sgorga dall'avere a cuore la vita altrui. Qui si piange perché non si corrisponde al Signore, che ci vuole tanto bene, e ci rattrista il pensiero del bene non fatto. Questo è il senso del peccato. Costoro dicono, ho ferito colui che amo, e questo gli adolora fino alle lacrime. Dio sia benedetto se arrivano a queste lacrime. Questo è il tema dei primi errori da affrontare. Difficile, ma vitale. Pensiamo al pianto di San Pietro, che lo porterà a un amore nuovo e molto più vero. Un amore è un pianto che purifica, che rinnova. Pietro guardò Gesù e pianse. Il cuore è stato rinnovato. Capire il peccato è un dono di Dio, è un'opera dello Spirito Santo. Noi, da soli, non possiamo capire il peccato. È una grazia che dobbiamo chiedere. Signore, che io capisca il male che ho fatto, o che posso fare. Questo è un dono molto grande. Uno dei primi monaci, Efraim, il Siro, dice che un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello. Come sempre, la vita cristiana ha nella misericordia la sua espressione migliore. Saggio e beato è colui che accoglie il dolore legato all'amore, perché riceverà la consolazione dello Spirito Santo, che è la tenerezza di Dio, che perdona e corregge. Dio sempre, Dio sempre perdona, non dimenticarci di questo. Dio sempre perdona, anche i peccati più brutti, sempre. Il problema è in noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Questo è il problema. Quando uno si chiude, eh, ma non chiede il perdono. E lui è lì per perdonare. Se teniamo sempre presente che Dio non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci repaga secondo le nostre colpe, viviamo nella misericordia e nella compassione e appare in noi l'amore. Che Signore ci conceda di amare in abbondanza, di amare col sorrisso, con la vicinanza, col servizio e anche con il pianto. Grazie.